Domani alle 20.45 con diretta in chiaro sul Rete 8 e prepartita a partire dalle 19.45 la prima di tre gare in meno di dieci giorni per il Pescara. È un vero e proprio scontro diretto in chiave posizionamento playoff quello di Gubbio. L'undici di Braglia arriva da sette risultati utili consecutivi, ben sei vittorie e un pareggio ma domani avrà problemi in attacco senza di massimo squalificato e in gol con una doppietta nell'ultimo turno a Pesaro e Bernardotto. Per Zeman che ha parlato poco fa in conferenza ancora assenti a Cornero e Vergani ma ci sono dei problemi anche per Franchini e Di Pasquale che andranno valutati tra questa sera e domani. Dunque qualche dubbio di formazione ma andiamo ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa di Zeman con le immagini di Diego Martelli. Allora buongiorno mister, bentornato, intanto come sta? Ogni tanto sparisco. e riapparo. A parte a Cornero e Vergani, tutta la squadra sta bene. Le chiedo se ha già scelto o se ha dei dubbi di formazione? Senza dirci quali ma almeno per capire. Poi magari se ce li dice... Ho già scelto, poi dipende da qualcuno che non sta al meglio se riesce a stare meglio durante questa giornata. A chi si riferisce? Di Pasquale che ha febbre. Franchini che ha qualche problema. Tornando a quello che ha detto un po' all'inizio sul qualche giocatore che deve ancora valutare nella giornata di oggi. Tra Di Pasquale e Franchini chi la preoccupa di più e se nel caso sono entrambi titolari? Di Pasquale immagino di sì. Ma oggi in allenamento si sono comportati bene, anche se, ripeto, tutti e due sono usciti dai problemi. Per il piano partita che in mente lei, Franchini sarebbe un titolare oppure no? Comunque lo dico la formazione, ma questa è la formazione. Comunque stanno meglio, sia Franchini che Di Pasquale stanno meglio. Nel senso che sono utilizzabili anche se non credo per 90 minuti. Entrambi? L'altra cosa che le volevo chiedere, nel caso di Forfetti Di Pasquale va con il mancino naturale Messi o sta molto bene anche per la Cani e potrebbe essere un'opzione? Potrebbe essere un'opzione. Volevo chiederle, mister, sul nuovo arrivo, soprattutto su Meazzi, in mediana Meazzi, che cosa può dare in più rispetto a cosa aveva la squadra prima e se ci sono da questo punto delle coppie prestabilite al centrocampo? Nel senso, Meazzi, faccio un esempio, magari non è vero, non può giocare con Tuniov perché sono due giocatori entrambi di qualità? Puntini, puntini, mi dica lei. Il discorso di Meazzi, quello che ci ha fatto vedere e quello che fa vedere l'allenamento, è sicuramente il giocatore più dinamico. poi tecnicamente è bravo, quindi per me non ha, forse tatticamente non capisce ancora quello che dovremmo fare, però con il tempo sia giusto. E le faccio l'ultima. Lei ha detto poco fa che bisogna rischiare un po' di più per proporre... Se uno vuole vincere le partite deve fare qualcosa più dell'avversario, non subire. Considerato che magari, da come ha detto lei, squizzato non è al 100% e potrebbe giocare uno tra Aloi e D'Agasso davanti alla difesa, come mezze ali, chi sono quelle che hanno più caratteristiche di prendere la palla e verticalizzare per le punte? È sempre la formazione. No, no, questa non è quella che ha una caratteristica. Chi può verticalizzare sono tutti i centrocampisti. Tugnoff, De Marco, Aloi, sono tutti e tre che possono verticalizzare. Già facciamo finta che Meazzi gioca. E invece Capone, quante autonomia ha? Capone per me ce l'ha. Poi il discorso è che tatticamente bisogna inserirlo meglio. Che lui tecnicamente è molto bravo, tatticamente non c'è ancora i tempi della squadra.